e allora anche oggi martedì si parte col sole alto in cielo che l'è già un bel è un bel booster, è un bel abbrivio, è una bella scarichetta, non l'è male, non si può sottovalutare non lo darebbe scontato ci sono posticini che questo lo vedono tre volte l'anno e allora si lascia il cavallino e si prende lo smartino perché l'appuntamento è in centro, zona stazione, corso di formazione perché la formazione non finisce mai, diceva il mio formatore Franco Mizzarelli e aveva ragione numero uno, grazie a lui faccio sto mestiere e credo di farlo discretamente, quantomeno lui me l'ha segnato bene e allora il celebre del taglio oggi fa la differenza, quadrante orange per il Seamaster nasce argento ma il tempo gli ha dato sapore, gli ha dato agrume orange, scarpa orange, because the attention for details make the difference e allora c'è questo piccolo tratto, casa, parcheggio, mi fa piacere col cavallino poi prendiamo a Brabus dei poveri, a smart senza catalizzatore, col catalizzatore rubato, che è un po' reato mandaccio in giro non l'è reato, l'è gratificato, l'è molto exaustato e allora il ponte più bello del mondo, cerchiamo un po' delle quale quanto è in roito e viva la Vitano, ah lui si è fatto la Mini, ma quanto è bella la Mini, quanto bene, mezza piotta costa la Mini è un pitale, con mezza piotta che compro un carrello usato, ma secondo me sto male si bravo, no? i milisti, i milisti sono un'altra categoria, eh, mezza un bacio su di atto, eh, sono tanto contenti ha salvato tanta gente la Mini, ma la Porsche, la Porsche è in garage, no, la Porsche l'hai venduta la Porsche l'hai venduta, hai pagato tre rari di leasing e poi l'hanno levata secondo te sto male, o te fai la Mini o te fai la Smart e te salva la vita, snows, bella per te, io vado a lavorare grazie